Considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, occasionalmente è stato anche cantautore e compositore per altri artisti. Ha preso parte come cantante in gara al Festival di Sanremo per sette volte, vincendolo nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. E lo ha anche condotto per tre edizioni. Nel 2011, 2012 e 2023, quest'ultima insieme ad Amadeus. Ha al suo attivo una targa Tenko e il premio Lunezia 2010, per il valore musico-letterario dell'album Grazie a tutti. Morandi e Pino erano molto legati, e in più occasioni. Gianni si è dimostrato un vero amico per il cantante deceduto. L'annuncio del cantante è accompagnato da uno scatto che lo ritrae proprio con Dan Jo in uno dei tanti momenti che hanno condiviso. Pino, nonostante l'età e le diverse operazioni alla gola, non ha mai smesso di fare musica. Ha continuato a fare progetti per il futuro fino all'ultimo giorni della sua vita. Si è esibito sul palco dell'Aristo nell'ultimo festival di Sanremo insieme ai giovanissimi Bunker 44, che hanno riportato nelle hit Ma quale idea, tra i brani di maggiore successo di Dan Jo. Il gruppo lo ha recentemente ricordato anche a Battiti Live. Perché Pino era così. Ha sempre sorriso in faccia al diavolo. È sempre stato un guerriero. E ci ha insegnato ad amare la vita nonostante questa comporti dolore ma soprattutto ci ha insegnato sempre a seguire le nostre idee. Pino se n'è andato. Era un grande artista. Negli ultimi tempi non stava benissimo, ma continuava a pensare al futuro e prendeva impegni anche per andare all'estero. Eravamo amici, ci conoscevamo da più di 40 anni, ci volevamo bene e mi mancherà tanto. Mando un pensiero e un forte abbraccio alla sua Teresa. E a Francesco. Questa è la didascalia scelta da Morandi per salutare Pino Dan Jo, morto nei giorni scorsi.